Benvenuti ad una nuova puntata di fitness. Marcia destra, su bene le gambe, ci scaldiamo. 4, 3, 2, divarico le gambe. Ricordate che io lavoro a specchio, la mia gamma sinistra e la vostra gamma destra. 4, 3, 2, sposto il peso a destra. Il riscaldamento ci serve per aumentare la temperatura del corpo, ma soprattutto per preparare muscoli e articolazioni al lavoro successivo. 4, 3, 2, mani alle spalle, gomiti in avanti e in fuori. 4, 3, 2, circonduzioni, ampio il movimento, i gomiti passano vicino alle orecchie. Sono 4, 3, 2, e un braccio avanti. 4, 3, 2, in alto, allungo bene, non sbatacchiate le braccia, controllate ogni movimento. Sono 4, 3, 2, la gamba dietro, lecca il tallone verso il gluteo. 4, 4, 3, 2, spingo bene le braccia in fuori. Chiudo le braccia avanti. Sono 4, 3, 2, braccia in alto, allungo bene verso il soffitto. Sono 4, 3, 2, datemi lo step touch. Apro e chiudo e comincio a sollevare il ginocchio sinistro. Step knee up. Energico anche il lavoro di braccia. Sono 4, 3, 2, di seguito la gamba, repeat it. Suba nel ginocchio. Ancora. 4, 3, 2, la gamba la lascio dietro distesa. Scendo bene con il tallone verso il pavimento e mantengo giù. Schiaccio forte il tallone, braccia in avanti, sto allungando il polpaccio. Piego la gamba sinistra, retroversione del bacino e allungo lo psoas. Sono 4, 3, 2, su il ginocchio. Su, sposto il peso sulla gamba sinistra, sollevo la punta del piede e allungo la parte posteriore della gamba destra. Passo al centro, mani sulle cosce, salgo bene a rotondo la schiena e giù. E ancora. Su bene. E srotolo. Marcia a sinistra. 4, 3, 2, divari con le gambe marciando. Two touch. Sposto il peso. 4, 3, 2, le mani alle spalle, gomitino avanti e fuori. Ampio il lavoro, sto scaldando le spalle. Sono 4, 3, 2, circonduzioni, gomiti che passano vicino alle orecchie. E 4, e 3, e 2, braccio avanti. 4, 3, 2, braccio in alto, allungo bene. 4, 3, 2, illeccazza, gamba dietro. Ancora. Porto le braccia in fuori. E 4, e 3, e 2, chiudo avanti le braccia. e 4, 3, 2, in alto, allungo bene le braccia al soffitto. Fatemi lo step touch. Apro e chiudo. Sollevo il ginocchio destro e inserisco le braccia. Step knee up. Sono 4, sono 3, 2, di seguito la gamba. Repeater. Su bene. Ancora 4, 4, 3, 2, lascio la gamba dietro. Giù, su, giù, su, scendo, salgo, scendo e mantengo giù. Schiaccio bene il tallone verso il pavimento. Cresteliache frontali, le braccia in avanti. Spingo bene la pancia in dentro. Allungando il polpaccio destro. Piego la gamba sotto, retroversione del bacino e allungo l'opsoas. Spingere bene in dentro la pancia. Su bene il ginocchio. Sposto il peso sulla gamba destra. Sollevo la punta del piede silenzio. Il petto rimane parallelo al pavimento e allungo bene la parte posteriore della coscia. 4, 3, 2, passo al centro. Solo schiena. E giù. E ancora. Spingo bene la pancia in dentro. E srotolo. Marcia destra. Iniziamo la nostra breve coreografia. Su bene le gambe. 4, 3, 2, step touch. Me ne date due verso destra. Step side, step touch. Ancora. 4, 3, 2. Attenzione. Stessa cosa ma incrocio la gamba dietro. Diventa incrocio. Grappai. Ancora. Marcia destra. Sulle gambe. 4, 3, marciando. Passo avanti e indietro. Gamba destra. Non fermate le gambe. Diventa mambo. Avanti e indietro. Sono 4. Sono 3. 2. Incrocio. Ritorno. Il mambo. Incrocio. Ritorno. Il mambo. E marcia. Marciando. Voglio il jazz. Passo e incrocio. La sinistra davanti e la destra. Uno incrocio. Passo e incrocio. Sono 4. Sono 3. 2. Da capo. Red vine. Ritorno. Il mambo. Due jazz. Due repeaters sul ginocchio. Su. Marcia. Step touch. Ho cambiato gamba. Incrocio. Sinistra. Ritorno. Ancora, ancora. Due. Marcia sinistra. Marciando. Vi date subito il mambo. In avanti e indietro. E ancora. Incrocio. Si va. Ritorno. Il mambo. Il jazz. Passo e incrocio. Incrocio la destra davanti alla sinistra. 4. 3. 2. Si va. Incrocio. Vai vai. Mambo mambo. 2 jazz. 2 repeaters. Marcia. Attenzione. Faccio un piccolo cambio. La riprendiamo subito da capo. 4. 3. 2. Un incrocio. Subito mambo sinistro. Incrocio. Mambo destro. Il jazz. Ancora. 2 repeaters. Marcia. Mantieni. Stessa cosa. Partendo a sinistra. Si va. Subito mambo. Ritorno. Il mambo. 2 jazz. 2 repeaters. Marcia. Ancora una volta. Faccio l'ultimo cambio di jazz. Ne voglio uno solo. 4. 4. 3. 2. L'incrocio. Il mambo. Ritorno. Il mambo. Un jazz. 2 repeaters. Subito l'incrocio. Il mambo. Molto bene. Ancora. Mambo. Il jazz. 2 repeaters. Ultima da capo. Si va. Il mambo. Ritorno. Mambo. Jazz. 2. Incrocio. Mambo. Ancora. Mambo. Jazz. 2 repeaters. E marcia. Molto bene. Finito il primo blocco. Andiamo a prendere l'elastico. Iniziamo la tonificazione. Oggi tonificheremo la parte del petto. Controllate. Ricordate di controllare che l'elastico sia sano e non abbia incisioni. Mettiamo tutte e due i piedi al centro dell'elastico. Le gambe sono semi piegate. I palmi delle mani sono in avanti. Addome controllato. Da questa posizione sollevo le braccia in avanti. E le convergo verso il centro. E torno. E chiudo. Cercate di contrarre il petto. Sta lavorando soprattutto il teltoide anteriore. Ma concentratevi sulla contrazione del pettorale. E chiudo. Giù. Ricordate che l'elastico non deve mai perdere resistenza. Né all'andata né al ritorno del movimento. Fuori l'aria. Qui. Torno. Ancora. Chiudo. Torno. Ancora. Sali. Sali. Ancora quattro. Chiudo forte. Torno. Le braccia sono quasi distese completamente. Ma non bloccate le articolazioni. Sali. Sali. Torno. Torno. Sali. Sali. Singoli. Si va. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Mantengo. Tengo l'isometria. Sette. Sei. Controllare l'addome. Quattro. Tre. Due. E rilasso. Di nuovo marcia. Secondo blocco aerobico. Su bene le gambe. Bene la marcia. Attenzione. Uno. Due. Tre. Sul ginocchio. Ancora. E su. Uno. Due. Tre. Su. Lo facciamo andando in avanti. Sul ginocchio. Ancora. E su. Ultima volta. Step touch. Date mille carte. Gamba dietro. Mantenendo questo passo facciamo un quarto di giro verso la nostra destra. Cinque. Sei. Si va. Si va. Uno. Due. Mantengo qua. Quattro. Tre. Due. Un quarto di giro a destra. Ritorno al centro. Tre passi avanti. Un quarto di giro. Le carte. Ancora. Da capo. Tre passi. Su. Un quarto di giro. Step touch. Molto bene. Due step touch verso destra. Step side. Step touch. E ancora. Attenzione. Provate a spingere con le gambe. Se non volete saltare. Mantenete i due step touch. Inseriamo le braccia. Ancora. Da capo. Tre passi. Destra. Su. Ginocchio. Le carte. Un quarto di giro. Caloppo. Spingo bene. Due. Ancora uno. Ultima da capo a destra. Tre passi. Su. Un quarto di giro. Gamba dietro. Galoppo. Sono tre. Due. L'ultimo. Step touch. Stai qui. E quattro. E tre. Tre passi avanti. Sinistra. Ho cambiato gamba. Ancora. Su bene il ginocchio. E ancora. Step touch. Sinistra. Dammi la gamba dietro. Mantenendo questo passo. Facciamo un quarto di giro a sinistra. Mantieni qua. Quattro. Tre. Due. Un quarto di giro. Tre passi avanti. Subito. Su. Un quarto di giro a sinistra. Step touch. Subito il galoppo. Si va. Spingi. Due. Tre. Tre passi avanti. Da capo. Su. Un quarto di giro a sinistra. Il galoppo. Sono tre. Sono due. Step touch. Questo pezzetto. A destra e a sinistra. Senza sorte. E quattro. E tre. Tre passi avanti. Destra. Un quarto di giro a destra. Tre galoppi. Si va. Due. Uno. Step touch. A sinistra. Tre passi. Su. Un quarto di giro. Tre galoppi. Step touch. Ultima da capo. Tre passi avanti. Forza. Sulle ginocchia. Deve stare a dire un pochino la frequenza cardiaca. Galoppo. Spingi con le gambe. Se non vuoi saltare, mantieni lo step touch. Stai qui. Sinistra. Tre passi. E su. Un quarto di giro. E spingi. E ancora. Step touch. Molto bene. Continuiamo a lavorare sul dentoide anteriore e sul petto. Sempre con l'elastico. Questa volta facciamo girare l'elastico davanti al petto. Sotto il seno. Impugniamo l'elastico con i palmi delle mani in avanti. Gambe semipiegate. Chiudo avanti. Chiudo. Fuori l'aria. Inspiro. Si va. Chiudo. Chiudo. Cercate di contrarre il pettorale. Chiudo. Chiudo. E ancora. Sono otto. Fuori l'aria. Si. Via. Sette. Il modo migliore per lavorare il pettorale è a terra. Contro gravità. Chiudo. Chiudo. O. Ancora. Otto. Via. Sette. Chiudi forte. Sei. Via. Via. Cinque. E. E. Quattro. Via. 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 Contrai. Via. 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 Mi voglio singoli. Si va. Sono otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Ultima serie. Non mollate. E otto. E sette. E sei. E cinque. Quattro. Tre. Due. Marcia. Marcia destra. Ultima fatica aerobica. Abbiniamo il primo blocco al secondo. Marcia destra. Su bene le gambe. Si parte dall'incrocio. Subito mambo. Ritorno. Mambo. Un jazz. Due repeaters. L'incrocio. Il mambo. Ritorno. Un jazz. Due repeaters. Marcia. Molto bene. Secondo blocco. Quattro. Tre. Due. Tre passi avanti. Suba nel ginocchio. Un quarto di giro. A destra. Leccato. Tre galoppi. Si va. Spingi con le gambe. E ancora. Step touch. Sinistra. Tre. E su. Un quarto di giro. Galoppo. Ancora. Step touch. Senza sotte. Da capo. Incrocio. Il mambo. Ancora. Il mambo. Un jazz. Due repeaters. L'incrocio. Mambo. L'incrocio. Mambo. Il jazz. Sinistra. Due repeaters. Tre passi avanti. Su il ginocchio. Le car girate. Il galoppo. Sono tre. Due. Ancora uno. Stai qua. Tre passi. Sinistra. E su. Un quarto di giro. Galoppo. Sono tre. Portano mollate. Ancora uno. Step touch. È l'ultima. Da capo. Incrocio. Mambo. Ritorno. Mambo. Un jazz. Due repeaters. Tre passi avanti. Su va nel ginocchio. Un quarto di giro a destra. Tre galoppi. Stai qua. E ancora. Step touch. Tre passi sinistra. Uno. Due. Tre. E su. Un quarto di giro. Galoppo. Un quarto di giro. Ancora uno. Step touch. Mantieni qui. Molto bene. Prendiamo l'elastico. E andiamo a fare l'ultimo lavoro. Facciamo un lavoro combinato con l'elastico questa volta. Mettiamo tutti e due i piedi sull'elastico e apriamo le punte dei piedi in fuori. Con le gambe facciamo dei plie. Quindi il bacino cade perpendicolarmente al pavimento. Scendo. Scendo. Attenzione che aggiungo le braccia. Le braccia fanno lo stesso lavoro di prima. Salgono e convergono in avanti. Sali. Lavora sia il pettorale sia le gambe. Aduttore compreso. Via. Scendo. Scendo. Su. Strizzo i glutei quando salgo. Via. Scendo. E ancora. Giù. Mi raccomando, cercate di non inclinare il busto avanti. Il busto rimane dritto. Addome contratto. E via. Scendo. Scendo. Li voglio singoli. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Piego le gambe e mantengo l'isometria. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. E cambio. Molto bene. Ce ne possiamo andare a terra. E continuiamo a lavorare con l'elastico. Lo facciamo girare intorno al corpo come prima. Quindi lo portiamo sotto al seno. Lo incrocio dietro. E mettiamo le mani infilate nelle maniglie. ci mettiamo schiena a terra con le gambe flesse. Tutta la schiena è a contatto con il pavimento. L'elastico passa sotto i gomiti. Da questa posizione distensione in alto e ritorno. Stendo bene le braccia e ritorno. In questo esercizio lavora sia il pettorale sia il tricipite. Ancora. Stendo. E torno. Fuori l'aria quando distendo le braccia. E lì lo sforzo. Fuori l'aria. Inspiro. Stendo. Attenzione. Ogni volta che distendo incrocio una volta il braccio destro avanti e una volta il braccio sinistro. Ancora. E chiudo. Incrocio. Hop. Via. On. Incrocio. Singoli. 8 7 6 5 4 3 2 Ne voglio ancora 8. Non mollate. 8 7 6 5 4 3 2 Fermo le braccia in alto. I palmi delle mani questa volta si guardano. Le braccia sono quasi distese da questa posizione apertura. Inspiro. Fuori l'aria. Inspiro. Fuori l'aria. Controllate sia l'andata sia il ritorno del movimento. Inspiro. Fuori l'aria. Sto isolando un pochino di più il pettorale. Cercate di concentrarmi e di sentire il pettorale che lavora. E 8 Fuori l'aria. E 7 Fuori. 6 Fuori. E 5 Chiudo. Via. 4 Via. 3 Via. 2 Via. 1 Ne voglio 8 singoli. 8 7 6 5 4 3 2 Mantieni le braccia in alto. Ruota ancora i palmi delle mani. Facciamo il lavoro combinato. Prima distensioni poi aperture. Pronti? Si va. Fletto, distendo, apro e chiudo. E Fletto, distendo, apro, ancora. Hop. Su. Apro, ancora. Fletto, distendo, apro, ancora. 8 Piego, stendo. E Via. E 7 Via. E 6 E 5 Apro, chiudo. 4 Non mollate. Apro, chiudo. 3 Apro, chiudo. 2 O La 1 E cambio. Finiamo il lavoro sul pettorale. E andiamo a fare dei piegamenti. Senza l'elastico. Le ginocchia. Le ginocchia sono a terra. Sono in quadrupedia. Le braccia sono leggermente più divaricate rispetto alle spalle. Da questa posizione piego le braccia. Gomiti fuori. E scendo. Scendo. Stendo. Stendo. Il capo è in linea. L'addome è controllato. Scendo. Scendo. Se vi sentite forti potete sollevare le ginocchia da terra come sta facendo Andrea. Scendo. Scendo. Salgo. Salgo. Scendo. Scendo. Li voglio singoli. 8 7 6 5 4 3 Forza. 2 E cambio. Avvicino i glutei e i talloni. Rilasso il capo e vado a strecciare. Vengo su. E pronti per fare molto bene. Distendo tutte e due le gambe. Schiene dritte. Passeggio in avanti con le mani. E vado a cercare le punte dei piedi. Cercando di mantenere il più possibile il petto in avanti. Cercate di non fare le gobbe con la schiena. Dove arrivate arrivate non importa. Ma isolate la parte posteriore delle cosce. Cambio. Piego tutte le gambe. Impugno dietro le mani. E vado a strecciare il pettorale. Stendo bene le braccia. Cambio. Impugno sotto le cosce. Schiene dritte. Arrotondo bene la schiena. Streccio la colonna. Su. Inspiro. E fuori l'aria. Arrotondo bene la schiena. Spingere la pancia in dentro. E su. Allenamento di oggi è stato principalmente per il pettorale. Vi aspetta la prossima puntata. E su. Abono.